Il sindaco Salera però ha detto anche, rivolgendosi poi a due giornalisti, che era pronto a sfidarlo per quello che riguarda le assunzioni perché nel 2017 ha detto che lei è assessore al personale e non è stato in grado di fare le assunzioni. Brevamente cosa risponde a tutto questo? È un classico di Salera. Ricordo che quando era assessore al bilancio lo definivamo il mago Silvan perché nelle sue dichiarazioni diceva sempre 6 milioni, 7 milioni, 8 milioni di debiti e poi dopo approvava i bilanci e la realtà dei fatti è stata poi nel 2017 quando la dirigente dell'ufficio di ragioneria dichiarò l'impossibilità di andare avanti e l'amministrazione di Alessandro dovette dichiarare il dissesto. Oggi grazie a quel dissesto l'amministrazione Salera è potuta partire da zero, palla al centro e c'è stata la possibilità quindi delle assunzioni. Di Salera siamo abituati a trasformare la realtà secondo i suoi piacimenti. Quindi lei ci dice oggi, dice a noi e dice quindi anche al Senato Salera che nel 2017 le assunzioni non si potevano fare perché c'è... Non si potevano fare perché il bilancio era bloccato, c'era stato il predissesto che noi abbiamo sempre contestato perché bisogna avere il coraggio a quel punto di dichiarare il dissesto, non il predissesto. Il predissesto aveva bloccato completamente la macchina amministrativa. Chiudiamo questo capitolo. Nel 2017 assunzioni non si sono potute fare perché a causa del predissesto dichiarato da Salera e non per ritardi o altre cose a cui... Assolutamente, è andato di fatto. Ok.